Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale, io sono Amelia e quello di oggi è un video che mi è stato richiesto da tre persone ho controllato, io sono un influencer, è vero che la regia mi dice di dirvi che me l'avete richiesto in tantissimi ma in realtà me l'hanno chiesto soltanto tre persone, ho controllato e siccome che era una richiesta un po' bizzarra, nel senso che sì, mi vengono fatte delle richieste ogni tanto in chat, sull'instagram, piuttosto che nei commenti però che mi venisse esplicitamente richiesto di parlare di un volume nello specifico no, quindi parliamone ora che siamo tornati in zona arancione, madonna sti capelli, madonna sta faccia ora che siamo tornati in zona arancione, anche i corrieri hanno deciso di venire a trovarmi e quindi mi hanno portato il volume 8 e conclusivo di Blue Flag e niente, oggi ne parliamo ovviamente in maniera... come ne parlo io, quindi male senza spoiler e in maniera più possibile dunque, chiudiamo questo cerchio con Blue Flag volume 8 che io ho letto ieri sera e ancora sono sciocco basita perché io... cioè, non è che non me l'aspettassi però... è stato un volume davvero intenso partiamo dal presupposto che mi è piaciuto moltissimo mi è piaciuto moltissimo tutto il volume, tutti i discorsi che si fanno tutte le impostazioni delle tavole a me è piaciuto qualunque cosa persino, anzi, se posso quasi quasi anche di più l'extra alla fine dove vengono spiegati un po' quali sono state l'origine e il percorso del fumetto e veramente mi ha colpito da pazzi mi è piaciuto un sacco il discorso non si può dire magari che è spoiler vabbè i discorsi risolutivi, diciamo i discorsi risolutivi di questo volume e in più i capitoli dal punto di vista di Toma per me sono veramente una poesia disegnata veramente adoro follemente il finale, sì il finale secondo me è uno di quelle cose che può lasciare interdetti e un attimino delusi però io l'ho trovato coerente con quello che era stato costruito nei sette volumi precedenti e l'ho trovato molto più realistico di tante altre serie cioè come vibe, come tenore di finale mi è sembrato più realistico un po' come quando avevo letto una stella cadente in pieno giorno e l'opinione pubblica si era spezzata in due perché il finale era stato più coraggioso rispetto agli shoujo tradizionali ecco, secondo me questo finale come vibes spacca un po' l'opinione pubblica in due però l'ho trovato davvero coerente gestito come si deve tra l'altro non l'ho trovato neanche particolarmente affrettato come ho sentito dire in giro l'ho trovato anche se vogliamo poetico veramente mi ha soddisfatta moltissimo in realtà questo video è semplicemente un fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato perché per quanto mi riguarda Blue Flag è tipo una delle uscite planet originali e non parliamo di ristampe però è una delle uscite planet penso tra le migliori degli ultimi dieci anni cioè e deve essere letto da tutti quanti perché veramente è un'opera coraggiosa e molto realistica che fa davvero riflettere moltissimo e in generale è veramente un fumetto di altissima qualità fatemi sapere però in un commento voi che cosa ne avete pensato ovviamente per cortesia scrivetemi prima spoiler ecco, se dovete fare spoiler a vostra volta e niente, io vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per seguire Meran sia su Facebook che su Instagram che su Telegram appunto fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne avete pensato di questo finale di Blue Flag e niente, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video bye 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 Ciao a tutti